E' bruciato un materasso all'interno di una stanza, probabilmente incendiato volutamente. Nessuna pista è esclusa per l'incendio che si è verificato all'interno della comunità per minori Zenobia che si trova in via Adda ad Arezzo. L'incendio si è verificato intorno alle 21 avrebbe avuto origine da un materasso all'interno di una camera da letto al primo piano della palazzina. Un fumo denso ha riempito in pochi minuti l'appartamento mentre le fiamme hanno inghiottito materassi e mobili. I vigi del fuoco di Arezzo sono intervenuti con due squadre ed hanno domato le fiamme evitando che si propagassero il resto degli appartamenti. Più che altro tutto il vicinato, per lì ovviamente un po' di rabbia c'è sempre perché purtroppo a noi non ci interessa tanto cosa fa questa comunità, ognuno vive per sé. Però insomma diciamo che la paura c'è stata, poteva andare peggio, insomma non è successo niente. In tutto cinque minorenni che si trovavano in quel momento ospiti della struttura. Con loro c'erano anche gli educatori che sono stati sentiti dalla polizia intervenuta sul posto per avviare le dovute indagini che porteranno a capire l'esatta dinamica dei fatti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato durante l'incendio. Alcuni locali sono stati dichiarati momentaneamente inagibili a causa dei danni provocati dal fumo. Grazie. Grazie a tutti.